I finanzieri del nucleo di polizia economico-finanziera di Siracusa hanno eseguito quattro arresti per sfruttamento di manodopera in debita e percezione di finanziamenti pubblici e corruzione. Tre imprenditori siracusani e un dirigente del settore territorio-ambiente del libero consorzio di Siracusa arrestati nell'operazione Black Trash della Guardia di Finanza di Siracusa. Gli indagati sono accusati a vario titolo di illecita intermediazione, sfruttamento del lavoro, truffa aggravata e corruzione per l'esercizio e la funzione. L'indagine nasce dopo la scoperta che nell'azienda dei tre soci la Ecomac Smaltimenti e Rifiuti avrebbe impiegato dei lavoratori pagandoli con tariffe inferiori rispetto a quelle previste nei contratti collettivi. La stessa impresa avrebbe poi chiesto e ottenuto dalla Regione 800.000 euro a fondo perduto per la costruzione di una piattaforma per lo stoccaggio e il trattamento dei rifiuti speciali non pericolosi, alterando a proprio vantaggio le condizioni dei dipendenti. Nonostante risultasse che venivano pagati 8 euro ad ora, i soci dell'impresa avrebbero elargito la metà dell'importo. Inoltre, nell'inchiesta della finanza sarebbero emerse violazioni delle norme sui contratti di lavoro in materia di riposi e sicurezza, ottenendo così grossi risparmi economici. Ma nella documentazione inviata alla Regione le condizioni di lavoro erano in regola e a svelarle sono state le intercettazioni telefoniche e le riprese video degli inquirenti. Le evidenze di indagine, fanno sapere alla Guardia di Finanza di Siracusa, rivelano che la società, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al bando pubblico, non aveva i requisiti di ammissibilità dei contributi pubblici in questione. Avrebbero inoltre dovuto ottenere un'autorizzazione dal libero consorzio che, secondo la finanza, gliel'avrebbe concesso in cambio di due assunzioni. La Procura di Siracusa ha anche ottenuto il sequestro di 318.000 euro erogati dalla Regione alla società.